Amiche ed amici, ben trovati su Sportme da Marco Laguidara per raccontarvi il match odierno che apre la ventunesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Impegno casalingo della Messana che reduce da due vittorie consecutive, sfida importantissima per il proprio campionato contro i ragazzi della Leonfortese. Si torna a giocare all'ambiente stadium dopo la vittoria di Modica. Per la Leonfortese tra i pali Cesaretti, poi Nuccio, Ferrara, Grasso, Russo, Popolo, Puleo, Cacicia, Meta, Caputa, Volo. Risponde la Messana con Sanne, Viscuso, Fracapane, Corso, Gusso, Ficara, Biondo, Misidi, Cannavò, Rando, Barbera. Le immagini ci portano a raccontare subito la prima offensiva da parte degli ospiti con Meta che entra in aria il destro appena deviato. Sanne, attento blocca. Ancora azione sull'auto di destro, stavolta con Caputa. Rientra ancora Caputa carica il mancino, lo esplode. Sanne accompagna la palla uscire alla sua sinistra. Sempre possesso per i ragazzi in verde con Nuccio il tocco in profondità. Occhio ancora alla possibilità da parte di Caputa pescato sul filo del fuorigioco. Pericolo scampato da parte della Messana che però rischia ancora una volta sempre sull'imbucata a cercare Caputa. Stavolta sale benissimo l'elettroguardia di casa e viene pescato in fuorigioco il numero 10. Manovra a grasso. Il tocco sulla mancina. Si cambia fascia per la Neonfortese. Occhio qui alla possibilità con l'ingresso in aria. Da parte di Volo guarda al centro. Non c'è nessuno alla fine. Opta per la soluzione personale. Sanne respinge in angolo. Prova a rispondere la Messana. Il tacco da parte di Cannavò per la corsa di Barbera. Rientra Barbera. Si avvicina Fra Capane. Il cross di prima intenzione. Tutto solo. Sbuccia la conclusione. Rando. Subito pericolosissima la Messana. Si corre però velocissimi. Controllo con la colla da parte di Volo. Rientra a Volo. Ce l'ha sul destro. Lo prova a giro. Palla che accarezza la traversa e sfila sul fondo. Rilancio lunghissimo. Occhio qua alla possibilità dell'uno contro uno col pallonetto che finisce fuori dai pali da parte di Puleo. Disimpegno. La palla recuperata da Caputa. L'appoggio per il destro. Di prima intenzione da parte di Grasso che però non trova la porta. Con le immagini montate da Nino Famà andiamo con il racconto del secondo tempo. Si apre subito con l'occasione da parte di Leon Fortese. Stavolta assaggiati i riflessi di Sanè da parte di Puleo. Ancora però il numero 4 che serve in profondità poi si riprende il pallone. È sempre Grasso. Il tocco sulla sinistra. Si va in mezzo dove arriva pronto all'appuntamento con il gol. Ma occhio. Si alza la mano del direttore di cara. Tutto annullato. Si torna indietro sul punteggio di 0-0. Messana che si rende viva con il tocco. L'apertura per Santino Biondo. Il controllo e il destro. Un appoggio per Casaretti. Sanè. Occhio qua al disimpegno. Rubba palla la Leon Fortese che si presenta nell'1 contro 1 col destro. Blocca il match. Volo con il numero 11. La mette alle spalle di Sanè. Rubbata la palla e poi il destro alle spalle del numero 1 della Messana. 0-1 all'ambiente stadium. Avanti c'è la Leon Fortese. Messana che cerca di rispondere d'azione d'angolo. Il flipper alla fine rando. Si getta in estirata. Palla che finisce però alle stelle. Mister Tutisco cerca di cambiarla pescando le proprie carte dal mazzo. Qui l'occasione per la corsa da parte di Sowet. Il tocco per il controllo e il pallone appoggiato direttamente tra le braccia di Casaretti che prosegue al rilancio. Frischiate volte il direttore di gara. Non c'è più tempo. Termina così con la vittoria della Leon Fortese sulla Messana per 1-0.